Dopo aver ascoltato Massimiliano Allegri da una parte e in seconda battuta Inzaghi dall'altra ho la stessa, dico brutta, sensazione dell'andata. Una partita che se poi in un modo o nell'altro si inchioda sul pareggio non la si gioca neanche come hanno fatto all'andata perché dopo nel secondo tempo la partita non è stata proprio giocata non interessava a nessuno delle due squadre sbilanciarsi e in qualche modo provare a portarsi a casa il bottino pieno. Quindi ho le stesse sensazioni dopo aver ascoltato i due allenatori che non si sono fatti esogire praticamente nulla. Oggi un allenatore bravo è un allenatore che schiva i colpi un allenatore bravo dal punto di vista comunicativo parlo è un allenatore che deve andare in conferenza e non far parlare di sé se finita la conferenza non riesce a estrapolare nessun virgolettato non riesce a mettere il titolone significa che l'allenatore ha lavorato bene dall'altro lato escono fuori le solite banalità le solite frasi di rito ed è il motivo per il quale non seguo più le conferenze io prima non mi perdevo nulla vi giuro stavo lì inchiodato ad ascoltare gli allenatori in qualsiasi conferenza stampa anche Inter-Novara dove le buscavamo tra l'altro invece oggi non le seguo più anche perché vai a vedere la conferenza pre-Inter-Juve e veramente non esce fuori nulla nulla di così rilevante se non lato Juve recuperati, rabbio e chiesa delle cose che puoi andare a recepire anche dopo tale informazione e che ti devi ascoltare le dichiarazioni di Allegri però lato Inter idem anzi lato Inter c'era una roba che mi interessava molto io mi lamento anche sempre dei giornalisti che magari riescono spesso volentieri solo pochi incisivi invece c'è stato un giornalista che gli ha chiesto di Dumfries perché mi sembra abbastanza lampante che Dumfries sia scalato nelle gerarchie sì per infortunio tutto quello che vi pare ma non lo vediamo in campo e Dumfries era uno dei giocatori più importanti di Inzaghi uno dei giocatori che Inzaghi ha migliorato tantissimo e credo che sia ai margini soprattutto per una questione contrattuale ad oggi penso, suppongo fatto sta che anche in questo caso Inzaghi è stato molto bravo a dribbarla alla domanda a parlare anche di Buchanan e quindi in qualche modo a targiversare per cui se vi interessano le notizie quelle vere non le avrete certo dopo tali conferenze questo è veramente assodato però parole di Inzaghi parole di Allegri la partita è solo 0-0 quello che mi hanno detto è che la partita è assolutamente solo 0-0 per entrambi non è una partita decisiva è una partita importante ma non decisiva e diciamo che siamo alla 23.5 giornata e quindi è anche vero lato mio da tifoso vi dico avere la Juventus vicino non è mai assolutamente piacevole nel modo più assoluto ed è il motivo per il quale mi ha infastidito soprattutto all'andata non averci nemmeno provato con una Juventus che secondo me allora non era al meglio che schierava Nicolò Sicaviglia in mezzo al campo che non aveva l'Ildiz in più in più di oggi per cui almeno averci provato anche se capisco che era fuori casa questa volta te la giochi in casa ma questa volta trovi secondo me una Juventus più quadrata e quindi conscia di quello che accadde due anni fa credo che portare a casa un pari non dispiaccia a nessuna delle due squadre ancora una volta questa è la mia è la mia la mia sensazione perché l'Inter due anni fa si dice sempre che lo Scudetto l'ha perso con il Bologna prima lo Scudetto due anni fa l'Inter l'ho perse nello scontro diretto col Milan stavi vincendo aveva fatto una gara magnifica per 70 minuti sono bastati 15 minuti pessimi e tu tu ti sei giocato letteralmente lo Scudetto e col senno di poi se l'avessimo sì non vinta ma quantomeno pareggiata quella partita è è è e secondo me il ragionamento che fa Inzaghi questa volta portare a casa un pareggio non non può essere così una brutta cosa da un lato lo capisco dall'altro dico se c'è una partita in cui puoi ammazzare il campionato è questa vediamo giochiamola ecco quello che vorrei giochiamola ho la sensazione che ripeto se la partita rimarrà in qualche modo inchiodata se non si stappa la si può portare su un tragico io lo dico tragico perché voglio vedere il gioco calcio dico tragico 0 0 a 0 vediamo vediamo quello quello che accadrà che dire no ripeto è difficile andare veramente a a trovare delle parole che poi posso evidenziare e posso dirvi da sta parola ho capito che cosa vuoi capire se Allegri siamo qui 3 febbraio e a quanti punti dalla Quintin classifica a 15 18 e continua a rimarcare il fatto che il loro obiettivo è il quarto è il quarto posto questo vi fa capire che non ci può essere nulla di vero nulla di di assolutamente sensato ai fini della della realtà no c'è solo una finalità che è quella appunto di di distogliere di è il lavoro è il lavoro che devono fare che devono fare i mister in passato c'è anche provata Allegri devo dire la verità c'è anche provata a seminare un po' di zizzani a parlare di guardie ladri di permalosi ha cercato e lo capisco ha provato a fare il gol come si suol dire dall'altro lato devo dire un inter sul prezzo non solo in campo ma anche e soprattutto forse sul lato comunicazione dove devo devo dirlo cioè a me in zaghi in passato il primo anno soprattutto non piaceva non piaceva affatto dal punto di vista comunicativo qualcuno mi dirà è perché forse se vai a vedere gli episodi avitali sono più pro che contro e se vai a vedere la posizione in classifica al primo posto è facile in una situazione del genere è facile che l'allenatore dicca le cose le cose giuste che non non sbrocchi ni in parte ni dall'altro lato di que in zaghi è quello che da inizio campionato è l'allenatore che dichiaratamente deve vincerlo sto scudetto cioè ogni volta lo si fa pesare e sappiamo anche che arrivi a fine stagione e magari non lo vinci lo scudetto dopo tre anni in cui non lo vinci non lo so non lo so quanto futuro ci sia di in zaghi all'inter non lo so e non so come reagirebbero tutti nei confronti di in zaghi che oggi elogiamo per il gioco per quello che ci fa vedere tutto quello che vi pare ma poi sappiamo benissimo che contiene i risultati e lo sa anche lui quindi in una situazione del genere secondo me comportarsi con questa lucidità non è assolutamente da poco e io ad oggi lo apprezzo ad oggi assolutamente poi non mi voglio mai sbilanciare perché appena lo fai devi stare attento come la prima parte stagionale appunto in cui ci giocamo lo scudetto contro il Milan due annate fa siamo in una situazione molto 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 simile onestamente sia per per la questione degli asterischi sia per la possibilità di andare a staccare la Juventus potenzialmente la potreste portare a meno sette ci sono tutti questi discorsi che creano delle analogie e proprio per questo motivo dico mai come adesso non ti puoi sbilanciare a fare dei ragionamenti specifici ma devi vedere un po' quello quello che accade quello che accade in campo perché poi soprattutto loro gli allenatori sono giudicati per per i risultati e vediamo 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 quello che quello che accade ragazzi io non non mi piacciono i pronostici ma oggi la vedo veramente una partita da pari e patta e il campionato ce lo giochiamo sino sino alla fine io la la vedo un po' così lo vedo vedo questo questo ragionamento qua fatevi sapere cosa ne pensate voi commentate la carta se volete iscrivervi al canale un grande abbraccio tolenski